Quest'anno il Vittorino ha voluto proporre una giornata di Open Day veramente originale. Abbiamo immaginato un viaggio nel tempo e con i personaggi più importanti, personaggi che hanno definito la nostra storia, la nostra cultura e non solo la nostra, anche quella mondiale. Per cui i ragazzi saranno invitati a fare questo viaggio e incontreranno personaggi quali Galileo, Dante, che Plero, Leonardo da Vinci, Newton, personaggi come dicevo prima che hanno davvero formato le nostre mendi. Ciò ha dimostrazione del fatto che gli studenti del Vittorini non conservano i contenuti in un monto una volta imparati e di cui poi non ne diverranno padroni. I ragazzi del Vittorini, una volta presi i contenuti, li faranno propri e dimostreranno così le loro competenze.